Il cemento contribuisce al recupero di materia e di energia dai rifiuti prodotti da altri settori industriali e da rifiuti urbani. Potrebbe fare molto di più, potrebbe fare molto di più. Noi recuperiamo 1.600.000 tonnellate di scarti derivanti da altre produzioni industriali come il recupero di materia, sostituendolo al calcare e all'argilla e recuperiamo circa 300.000 tonnellate di rifiuti recuperandone l'energia. Utilizzare combustibili alternativi è un'opportunità che il nostro paese sta perdendo perché incontra fortissime opposizioni a livello locale, spesso per disinformazione, spesso per iter autorizzativi e burocratici complessi. In Italia per avere un'autorizzazione ci vogliono 5-6 anni, in Germania 6 mesi. I nostri rifiuti li stiamo esportando all'estero. Noi stiamo esportando all'estero materiali che vengono bruciati in forni cementieri termovalorizzatori e centrali termoelettriche tedesche, austriache e portoghesi. È un'opportunità che il nostro paese sta perdendo su una base pregiudiziale che fa quasi rabbia. Quindi bisogna impegnarsi in una campagna di comunicazione a 360 gradi, ma non tanto i settori industriali, quello che stiamo facendo è quello che è stato fatto oggi qui per due giorni a Roma, ma le istituzioni ci devono mettere la faccia sia a livello centrale che a livello locale, perché i problemi poi si hanno a livello locale. Economia circolare è una parola bellissima, facciamo di tutto perché non diventi solo uno slogan e venga applicata a livello locale.